Decidere al meglio in tempi rapidi è la sfida ambiziosa di tutti gli imprenditori e manager con cui quotidianamente ci confrontiamo e collaboriamo. In esclusiva per i partner di Faro Club abbiamo costruito un momento di group coaching strutturato e dal contempo di semplice applicazione. Il nostro obiettivo è rafforzare il vostro decision making. Vi aspettiamo il 20 giugno a Villa 40 Verona.